A circa 40 anni della sua pubblicazione rimane uno degli album più belli e totali della storia della musica, 10 tracce che esplodono di energia e forza vitale, i cui riff hanno fatto scuola nel mondo della musica rock. Insomma, puro e potente hard rock, quello degli ACDC, con i fratelli Young al loro meglio e con la stupenda e graffiante voce di Brian Johnson all'epoca new entry nella band.